Non è amore se ti fa male. Non è amore se ti controlla. Non è amore se ti fa paura di essere quello che sei. Non è amore se ti picchia. Non è amore se ti umilia. Non è amore se ti proibisce di indossare il vestito che ti piace. Non è amore se dubiti della tua capacità intellettuale. Non è amore se non rispetta la tua volontà. Non è amore se fai sesso. Non è amore se dubiti costantemente della tua parola. Non è amore se non si confida con te. Non è amore se ti impedisce di studiare o di lavorare. Non è amore se ti tradisce. Non è amore se ti chiama stupida e pazza. Non è amore se piangi più di quanto sorridi. Non è amore se colpisce i tuoi figli. Non è amore se colpisce i tuoi animali. Non è amore se mente costantemente. Non è amore se ti sminuisce, se ti confronta, se ti fa sentire piccola. Il nome è abuso e tu meriti l'amore. Molto amore. C'è vita fuori da una relazione abusiva. Fidati. Noemi, 16 anni, ammazzata a pietrate dal fidanzato che ha confessato. E questo è il suo ultimo posto.